Purifica è lo shampoo acido di Labo Cosmetica, secondo step del ciclo 3PH. Prima dell'arrivo di Labo Cosmetica è indubbio che parlare di acido all'interno del mondo dell'autolavaggio fosse quasi un tabù. I laboratori Labo Cosmetica hanno dimostrato che una corretta selezione delle materie prime consente di utilizzare la natura acida per la soluzione di problemi gravi anche sulle auto, come per esempio i depositi minerali, il calcare. Purifica può essere utilizzato sia in foam come primo o secondo step nel ciclo 3PH quando vogliamo rimuovere macchie di calcare o comunque di contaminazioni minerali. Oppure può essere utilizzato nel secchio come un normale shampoo e lubrificato, il che consente uno scorrimento naturale e semplice del guanto o della spugna che andrete ad utilizzare. Grazie. Grazie. Grazie.